Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Roma ospita la Settimana dell'Arte, alla quale partecipano gratuitamente oltre 200 artisti. Spazi espositivi, gallerie, fondazioni, accademi e istituti stranieri organizzano per l'occasione eventi, vernissage, visite guidate, talk critici, performance e tanto altro. Infine, per evitare il parcheggio selvaggio attorno allo Stadio Olimpico, in occasione di eventi e partite, sono state create nuove aree sosta per auto, moto e bici. Come sempre 060606 o comune.roma.it